Un protocollo d'intesa per rafforzare e intensificare le misure a tutela della sicurezza e del rispetto della legalità nei cantieri della ricostruzione. Lo hanno firmato a Palazzo Chigi il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli, i presidenti delle quattro regioni del centro Italia colpiti dai terremoti del 2016, vice commissare le principali rappresentanze delle categorie produttive e sociali. Si tratta di un traguardo epocale, ha detto La De Micheli, definendo il documento unico di irregolarità contributiva al DURC, il frutto di un grande lavoro di ascolto e dialogo tra la struttura commissariale, gli enti pubblici e le parti sociali. Un documento aggiunto che conferma la volontà di garantire sicurezza su tutta la filiera della ricostruzione. Il DURC infatti pone al centro i professionisti e i lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione, tutelandone la sicurezza contro i rischi e i pericoli di eventuali illegalità, attestando la regolarità delle imprese riguardo tutti gli adempimenti IMS, INA e le Cassedile. La mancanza del documento viene sottolineato e impedisce alle imprese di operare in edilizia, sia negli appalti pubblici che privati. Diversi sono gli obiettivi, contrastare il lavoro sommerso e irregolare, evitare la concorrenza sleale impedendo qualunque vantaggio alle imprese non in regola, controllare i cantieri e garantire la certezza del pagamento dei contributi ai lavoratori impiegati nella ricostruzione. Del DURC faranno parte anche le tabelle sul costo del lavoro e il preziario dei materiali e sarà recepito da un'ordinanza che verrà pubblicata a breve.